Le due leader politiche, Giorgia Meloni e Ellie Schlein, si preparano a un confronto televisivo senza precedenti, in programma per giovedì 23 maggio durante la trasmissione Porta a Porta condotta da Bruno Vespa. L'annuncio di questo dibattito è stato diffuso attraverso una nota congiunta dei rispettivi staff, suscitando grande interesse e aspettative nel panorama politico italiano. Il confronto arriva in un momento di forte polarizzazione politica nel paese, con il governo di centrodestra guidato da Meloni alle prese con sfide economiche e sociali complesse, mentre il Partito Democratico di Schlein sta cercando di ridefinire la propria identità dopo la sconfitta elettorale del 2022. Per entrambe le leader, il duello televisivo rappresenta un momento cruciale. Meloni avrà l'opportunità di illustrare le azioni del suo governo e difendere le proprie posizioni, mentre Schlein potrà presentare la sua visione alternativa e criticare le scelte dell'esecutivo. I temi in discussione saranno molteplici, spaziando dall'economia al lavoro, dalle politiche sociali alla gestione dell'immigrazione, fino all'istruzione e alla cultura. L'attesa per questo confronto è alle stelle, poiché si preannuncia come uno degli eventi politici più significativi dell'anno. Gli elettori italiani avranno l'opportunità di valutare direttamente le proposte e le argomentazioni delle due leader, influenzando potenzialmente il dibattito politico e le scelte future del paese.